Ho trovato il suo numero nella borsetta di sua figlia. Crediamo sia meglio che glielo dica lei alla figlia. La figlia? Signora Porter, non è lei. Jesse? Nanno! Non la porterà via. Sono stato nominato suo tutore. Come vede abbiamo molte cose in comune che a lei piaccia o no. Giorni fa tu la pensavi come me. E me ne vergogno. Io voglio fare ciò che è meglio per Jesse. Per amore di Jesse. Questa sera alle 21.20.